...della mozione 145. Grazie Presidente. Dunque tutti voi sapete che i paesi ONU si sono impegnati formalmente attraverso la rete ANAIDS a raggiungere un obiettivo molto importante, cioè a ridurre a zero i nuovi contagi IDS entro il 2015. Purtroppo siamo nel nostro paese molto lontani da questo traguardo, poiché secondo i dati del centro operativo AIDS riconosciuto come riferimento statistico ufficiale sul tema dell'Istituto Superiore Sanità e che sono relativi all'aggiornamento delle nuove diagnosi di infezione da HIV e dei casi di AIDS al 31 dicembre 2012 l'incidenza è stata a livello nazionale di 6,5 nuovi casi ogni 100.000 residenti e purtroppo più della metà delle nuove diagnosi sono state registrate in questa regione, in regione Lombardia pari a una percentuale del 27,6%. Quindi in Lombardia siamo su una media rispetto ai soggetti residenti con un tasso di incidenza del 10,5 su 6,5 nazionale. E quindi un problema che va affrontato, che va affrontato concretamente e che noi abbiamo proposto all'interno di questa mozione per sollecitare la Giunta e l'assessorato alla sanità a prendere degli impegni più cogenti in questa materia. Sappiamo che la principale via di trasmissione è rappresentata dai contatti sessuali non protetti, che tuttavia non vengono sufficientemente percepiti come a rischio, in particolare dai giovani e dalle persone in età matura. Qui abbiamo una scuola, sono forse troppo piccoli questi studenti, ma la cultura e il cambio culturale può essere fatto solo attraverso un fondamentale passaggio nelle scuole. Sono quindi fondamentali la prevenzione dell'infezione da virus HIV con rapporti sessuali protetti e la diagnosi precoce di sieropositività in caso di comportamenti a rischio attraverso il test HIV, per consentire in caso di positività l'inizio della terapia e limitare la diffusione del virus. In data 16 gennaio 2013 è stata emessa la delibera di Giunta, utilizzo delle quote vincolate del Fondo Sanitario Nazionale per la realizzazione di obiettivi prioritari di rilievo nazionale indicati dal Piano Sanitario Nazionale anno 2012. In questa delibera si legge che alla Regione Lombardia è stato destinato un finanziamento statale vincolato erogato pari a 263 milioni di euro circa, di cui 2.751.390 dovevano essere destinati per la realizzazione degli obiettivi in ambito HIV. L'epidemiologia HIV dimostra che, soprattutto nella popolazione omosessuale, i men who have sex with men, rappresentano una popolazione vulnerabile, con dati di prevalenza dell'infezione molto preoccupanti rispetto ad altri gruppi e che, proprio in seno a queste categorie, la quota di infezioni HIV recenti, quindi risalenti a meno di un anno sulla base di un test di laboratorio, è stata particolarmente alta a confronto ad altri gruppi. La stessa constatazione è valida per la proporzione dei men who have sex with men in fase di infezione acuta, la cosiddetta prima infezione, oppresso i quali era stata diagnosticata un'altra malattia venerea durante i due anni precedenti alla diagnosi HIV. Questa situazione è indicativa di una relazione causale tra gli aumenti dei nuovi casi di HIV in questo gruppo e una maggiore esposizione ai rischi, così come è stato osservato anche in altri paesi dell'Europa occidentale. Ora, preso atto di quanto vi ho appena espresso, cioè che dall'evidenza epidemiologica sarebbe necessario, prendendo anche ad esempio le esperienze avviate nelle maggiori metropoli europee, implementare anche mediante destinazione di fondi dedicati la sperimentazione e strutturazione di servizi di testing HIV rapido e sarebbe altresì necessario realizzare e potenziare campagne e interventi specificatamente mirati anche alla popolazione omosessuale e azioni da strutturare in luoghi maggiormente frequentati e comunque mediante mezzi di rapida diffusione, noi chiediamo l'impegno alla Giunta di organizzare anche in un'ottica pro futuro forme di collaborazione in particolare più forti con le organizzazioni e le associazioni territoriali di lotta all'AIDS anche in sede di attuazione dei progetti delineati con la citata delibera. Chiediamo che Regione Lombardia dia il patrocinio anche a titolo gratuito a campagne e iniziative di informazione e prevenzione su iniziativa delle associazioni, che possa patrocinare anche a titolo gratuito e promuovere campagne di informazione soprattutto nelle scuole e nei luoghi di aggregazione giovanile, con sensibilizzazione all'uso del profilattico e anche, come già accade in alcune realtà, eventuale distribuzione gratuita tramite bandi di progetto. Chiediamo inoltre alla Giunta di farsi portavoce presso gli organi ministeriali per questa emergenza, perché in Lombardia è un'emergenza in quanto il dato è in aumento, affinché tutte le debiti informazioni possano trovare spazio nei programmi scolastici. Ed infine a istituire nelle scuole una giornata in prossimità del primo dicembre, abbiamo proposto il primo dicembre, perché ogni anno il primo dicembre ricorre la giornata mondiale della lotta all'AIDS, quindi sarebbe un bel segnale da parte della Regione istituire nelle scuole una giornata in cui gli studenti possano svolgere dei dibattiti o dei componimenti specificatamente su questa tematica. Occorre infatti che la diffusione sulle informazioni e sulle attività di prevenzione contro l'HIV sia più capillare, in particolare per agevolare un approccio dei giovani maggiormente consapevole alla sessualità. Grazie. Si è iscritta ora la consigliere Macchine a facoltà. Grazie Presidente. Volevo ribadire una cosa che è stata detta dalla consigliera Baldini, che non è corretta, nel senso che nel nostro dispositivo noi chiediamo veramente che si parli in genere dell'AIDS, non solo riferito alle problematiche della comunità omosessuale. Riteniamo che sia veramente importante parlarne e che il fatto di proporre la giornata per esempio nelle scuole sia importante perché ogni anno venga rinnovato, nelle scuole abbiamo delle giornate di memoria di fatti avvenuti decenni fa e poi non abbiamo la giornata per ricordare questa che invece è una tragedia quotidiana. quindi direi di guardare veramente bene quali sono le cose che chiediamo nel dispositivo perché non credo che bisogna limitarsi a osservare una parte dell'introduzione che peraltro è corretta sulla problematica degli omosessuali. Grazie. Parola all'assessore Mantovani per l'intervento della Giunta. Bene, grazie Presidente. Io direi che in linea di massima noi siamo favorevoli alla mozione presentata salvo qualche precisazione. Al punto 1 il parere è favorevole, dunque il punto 1 prevede l'organizzazione anche in un'ottica pro futuro, forme di collaborazione con le organizzazioni e associazioni territoriali di lotta all'AIDS e anche in sede di attuazione dei progetti delineati con la citata del Libera. Il parere è favorevole in quanto sarà breve ricostituita la Commissione regionale per la prevenzione e il controllo dell'infezione da HIV, quale punto di confronto in materia di prevenzione e lotta all'AIDS tra tutti i soggetti a diverso titolo interessati, area clinico-specialistica, area dei servizi sanitarie di prevenzione del territorio, area sociosanitaria e area del volontariato e più ampiamente dell'associazionismo in generale. Parere favorevole al punto 2 dove si chiede il patroginio di Regione Lombardia anche a titolo gratuito ad eventuali iniziative e campagne di informazione e prevenzione delle associazioni a condizione, naturalmente, secondo noi, che le iniziative siano rispondenti a criteri di efficacia secondo le linee di indirizzo ministeriali in accordo con la Commissione nazionale AIDS. Ecco, cioè, anche sulla scientificità dei messaggi, io credo che ci debba essere molta, molta attenzione. Sul punto 3, che noi ne proponiamo lo stralcio, che sono le campagne nelle scuole, eccetera, mentre diamo il parere favorevole al quinto punto che è quasi simile. Perché? Perché le azioni proposte si connotano come attività di sensibilizzazione che già rientrano nelle funzioni delle aziende sanitarie locali. In ambito di prevenzione, nelle malattie sessualmente trasmissibili, compresa l'HIV. Io sono stato a Monza 15 giorni fa a presentare un portale per tutte le scuole del territorio che desse appunto risposte dirette da parte dei medici dell'ASL, quindi delle risposte corrette sul piano scientifico in maniera tale che tutti i ragazzi delle scuole ne potessero usufruire direttamente anche per richieste e domande con ragioni personali, ecco, anche di intimità, in modo che avessero delle risposte adeguate e dirette in questo senso. Quindi ne proporremmo lo stralcio. Mentre il parere è favorevole sul quarto punto, sul farsi portavoce presso il Ministero e gli organi competenti, in quanto i temi legati alla prevenzione, IVI compresa la prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili, prevedono la conclusione di accordi direttamente col MIUR e con gli uffici scolastici regionali, per lo sviluppo operativo di azioni di prevenzione mediante programmi integrati coerentemente alle evidenze di efficacia nei contesti educativi. Quindi anche questo ritengo che sia da puntualizzare. Per il quinto punto, proporrei una modifica di istituire nelle scuole superiori una giornata in prossimità del primo dicembre, in cui si favoriscono dibattiti su questa tematica. Grazie. Chiedo alla proponente Nanni se accoglie le modifiche proposte dall'assessore. Sì, accolgo le modifiche e apprezziamo appunto questa volontà da parte dell'assessorato di venire incontro alle richieste, al deliberato della mozione, anche se in effetti noi per campagne di informazione nelle scuole intendevamo campagne proprio all'interno della scuola, non solo una ricerca di informazioni sulla rete da parte degli studenti, cioè coinvolgere anche il personale scolastico in questa campagna che aveva più un'impronta culturale per la prevenzione dell'HIV. Comunque le modifiche così come lei ci ha proposto vanno bene. Io chiederei se il Presidente non vuole aspettare di dichiarare le dichiarazioni di voto, la votazione per appello nominale a nome di Casalino, Fiasconaro, la sottoscritta, Carcano e Maccabiani e se mi è permesso un attimo solo di rispondere alla Consigliera Baldini che questa mozione è stata scritta a stretto braccio con le associazioni che si occupano della prevenzione HIV, anche con associazioni LGBT ma non solo e che il testo della mozione evidenzia in maniera molto chiara che è diretta a tutte le categorie, evidenziando la problematica percentuale sulla categoria omosessuale che naturalmente incide, ma non è diciamo l'unica categoria colpita da infezione HIV e quindi non è vero che la mozione è dedicata solo alla popolazione omosessuale ed è una mozione che, come noi siamo soliti fare, è frutto di un lavoro di collaborazione dal basso con l'associazionismo che combatte su queste tematiche. Grazie. Grazie.